Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati su Cane di Coppia, Davide Chiara Channel Questa sera video spesa fatto da S.Lunga Adesso giriamo l'inquadratura, facciamo ferma immagine dello scontrino e via con i prodotti Allora, come spesa natalizia siamo andati a spendere 138,85 euro Allora, abbiamo preso i soliti filoncini morbidi, quelli che fa la S.Lunga in panetteria, ne abbiamo presi tre Il quale uno è stato pagato 2,01 euro, uno 1,71 euro e l'altro 1,75 euro Sempre alla panetteria della S.Lunga abbiamo preso un vassoio di salatini misti pagati 5,54 euro E ne abbiamo preso praticamente quanto? Ne abbiamo presi tre etti e 80 ed erano scontati infatti del 40% Poi abbiamo preso una confezione di questo pane per bruschette, vedo qua il disegno delle bruschette No, in realtà è per fare, vedi, ideale per stuzzichini, antipasti, aperitivi, ti può fare un po' tutto Marca, daily, daily bread Daily, beh, lo sa lei l'inglese, io non lo massico bere Poi, che da tanto tempo, ma solo perché è Natale, due bottiglie di coca cola a due litro e mezzo perché la S.Lunga era finita anche la Fanta e la coca senza capellina Io bevo la coca asata Di un bancale di coca ce ne erano rimaste cinque forse Non sono neanche stato da contare perché erano pochissime Poi abbiamo preso le uova marca Smart, 10 uova fresche e medie da elevamento da terra Poi, per tutti, tranne mio padre, abbiamo preso il Pandoro Stracciatella che però è farcito poco perché lo so già Poi invece, per mio padre, il panettone Baoli marca e il panettone di Verona Perché il Motta non c'era? Perché il Motta, un signore gentilmente ci ha detto che era dall'altra parte dell'S.Lunga dove noi eravamo già alla cassa praticamente Poi della... All'S.Lunga abbiamo preso queste due confezioni di spinaci da... Mezzo chilo Mezzo chilo che poi si ristringono Stavo leggendo la marca... Futura Gris Mai sentita? Però sono buone, eh, gli spinaci Stanno anche bene Abbiamo preso due confezioni di cuore di Iceberg marca S.Lunga Questi sono ottimi Poi, scontata del 30% Abbiamo preso una confezione di carne di tri da scelta Pagata 4,96 centesimi Perché la mia mogliettina Farà il suo bellissimo, stupendo ragù Con la noce moscata E l'alloro Un zappone? Cos'è che hai? Non lo zappone Non lo zappone Non lo zappone Preso Perché stasera c'è camera... Scusatemi Stasera c'è una poltrona per due Allora mi sono preso tre tavolette di cioccolato alle nocciole alla gianduia Poi vediamo se le voglio dividere Alla faccia della dieta È Natale e non si guarda la dieta Poi abbiamo preso due vaschette da 250 grammi in una di olive greche E marca i... Ficacci I ficacci Boh Marca Mestini Poi abbiamo preso una... Sarebbero due confezioni di olive verdi al peperone Buonissime Poi mi hanno preso Ragazzi questo video speso diventa un peper Me lo manca con me Allora Della marca Aya Abbiamo preso due di... Due di... Al formaggio Ne abbiamo presi ben cinque Perché erano in offerta signori Solo questi c'erano nelle cellule Non c'era più niente Allora Uno... Due... Questi sono due No... Un tremor Allora Poi della... No... Della Ferrari Dei choux Ferrari Abbiamo preso... Abbiamo preso... Quattro? Abbiamo preso quattro confezioni di... Formaggio grattugiato fresco Solo latte italiano ragazzi Abbiamo preso quattro confezioni di salamini azteca della Citerio Quattro confezioni ce ne erano Quattro le portate via Oh le ultime quattro ce ne erano eh Ragazzi è assurdo che non c'è niente adesso nulla Un grande... Poi abbiamo preso un pacco di tre mozzarella della marca Galbani Santa Lucia Che le metterò della lasagna Della marca Citerio abbiamo preso i Wuster Woi Che questi qua sono buoni da fare alla piastra Anche se non mi degustano tanto Abbiamo preso il mucco bene lo dico Sì Signori Della... Alessia Lunga Chiara ha preso questo campanetto di due dvd penso Aspetta facciamo vedere edizione speciale Giriamo Alla Maham Amore Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Lo levate dagli occhi per fuoco L'ho girato apri amore Manca Allora lo descrivo io Allora questo qua Lascia C'è praticamente Che bello It Tutti e due i film E in più il regalo C'è la Funko Pop Che praticamente Mi mancava questa qua Non ce l'avevo E quindi incluso c'è anche la Funko Pop Iuuu Bellissimo Guardate ci sono Levalo, levalo, levalo Paura, paura Levalo Mettilo per terra Ma fanno vedere quale faccio che c'è No, no, io ho paura Poi Della marca Mozzarelline Mozzarelline No No, la marca White Lab Della marca White Lab Abbiamo preso due confezioni di mozzarella che sono la fine del mondo Ed è sempre la stessa E sempre la stessa marca Abbiamo preso le olive a scolane Vediamo l'acqua mamma Poi per me è medesimo che stasera c'è una fortuna per due Mi sono preso una bella confezione di pistacchi tostati da 400 grammi Poi Poi sempre dal panettiere dell'Esselunga abbiamo preso che sarebbero 4 panini alle olive Non so perché le ha divisi No, sono 5 e 5 Ah, non so Perché uno lo congeliamo e uno lo mangiamo Ah, ok Pagato 1 euro e 06 e 1 euro 05 Allora, questi qua sono bocconcini con le olive E io li avevo già mangiati Se l'avete visto i miei vecchi video spesa lo sapete E sono buoni Ma perché non li ho mai presi? Li voglio far assaggiare a loro Ovvero a Suocerina, Suocerina e Davide Perché sono molto buoni E questi ci sono anche alle noci e ai 5 cereali Sono proprio piccolini così Poi della marca Morato Spuntinelli le originali Questi qua sono il classico pane per fare le tartine al salmone Quello che volete insomma Sono molto buone Io di solito queste qua ci metto su un paio di detti di Nutella E è vero Questi qua serviranno per fare degli antipasti Adesso vediamo Vediamo le due mani per strappogarmi Poi della marca Morato Spuntinelli Abbiamo preso l'olio extravergine d'oliva Era in offerta Però ne abbiamo preso solo uno Perché nella dispensa ne abbiamo E perché non ce l'ha spesa a domicilio E pesa Della marca Voyello Dato che la pasta era in offerta Abbiamo preso le tofarelle Che sembrano conchiglie Si sono molto buone Buone la pasta Morato Spuntinelli E poi abbiamo preso anche le farfalle Adoro Mezzo chilo a confezione Poi Chiara ha preso Questi qua sono della Reinese Che si rimangia lei mio padre E peroncini farciti con tonno Buonissimi Te piacciono? Poi io mi sono preso Questa confezione di anelli Capricci di mare Capricci di mare Capricci di mare La marca 400 grammi Voglio assaggiare Perché la fruttura mista Che avevo preso Non era tanto buona E c'erano tanti anelli di pesce Questi qua sono diversi Voglio provare Questi sono solo anelli Poi abbiamo preso Due confezioni di stracchino Marca Pettinicchio Scusatemi Anche questa qua è Cuore tenero Non so Stracchino cuore tenero Questo qua è un 170 grammi Poi abbiamo preso Una confezione di Philadelphia Stavolta abbiamo preso L'originale Perché serve col salmone Poi abbiamo preso Due confezioni da Sono le mozzarella di bufala 400 grammi 420 grammi Mascolate su 200 grammi Buonissima Poi abbiamo preso Una fila di salamini Che sono veramente morbidissime Così puoi mangiarle anche Così puoi mangiarle anche Tu sono morbide Veramente è una bomba Una cannonata E costano Due euro e ventinove centesimi Poi abbiamo preso Una rete di limoni Da un chilo Per mia mamma Che non so Quei limoni Se li sposa Se li fa fuori E poi Una confezione Misera Poverina Di patatine Della Marca San Carlo Eh Tutto che ho preso io Sono un gustino nuovo Non so Ho mai visto Il gusto dei curiosi Ma gusto Sour cream Sta tipo L'erba cipollina Dal disegno Sembra Vi farò sapere Bene amici Spero che questo video Spesa fatto da essere lunga Solo spesa natalizia Vi sia piaciuto Vi abbia intrattenuto Abbiate preso spunto Dei prodotti Che vi abbiamo mostrato E io naturalmente Vi auguro Un buon Natale Una buona vigilia di Natale Un buon veglione Festeggiate allegramente In famiglia E fate i bravi Io vi invito ad iscrivermi in massa Al canale di coppia Da Vedi Chiara Channel Al canale di Chiara D'Alessandro Che è mia moglie Per chi non lo sapesse Ciao sono qua E al canale di Chiara D'Alessandro Io vi auguro Una buona serata Una buona cena Mi raccomando Rimpinzatevi Perché le feste Si sa Il Natale Si deve passare in famiglia Mangiando a volontà Non troppo Per non stare male Io vi auguro ancora Buona serata Un grosso bacione Il solito yeah Ciao